La determinazione di un padre. Sono qui per mia figlia. Ciao papà. Ti trovo bene. Sono venuta qui per il college. Alison e Lina stavano insieme. Una cosa ingiusta. Ha tornato a casa, ha trovato Lina morta e ha chiamato la polizia. Lottare. Questa lettera mi dice che sua figlia non ha accettato la sentenza. Sto solo parlando. Non funziona così. Contro ogni ostacolo. Con Matt Damon, Camille Cotin, Abigail Breslin. Liberamente ispirato a un caso di cronaca nera italiana. In Prima TV, Canale 5, la ragazza di Stillwater. Venerdì in prima serata.